Oroscopo settimanale. Dal 7, al 13 maggio, 2018. Ariete. Amore. I momenti più complicati riguarderanno, inoltre, solo i primi giorni della settimana. Poi loroscopo annuncia linizio di un periodo più disteso, grazie al favore di Venere che spinge a vivere le emozioni con più allegria e spensieratezza. I single cederanno ad un romantico e passionale corteggiamento e saranno tali. Ancora per poco. Lavoro. E contrattempi renderanno la situazione molto incandescente. Meglio controllarsi. Novità per chi ha intenzione di investire. Creatività e comunicativa raggiungeranno punte altissime soprattutto nei primi giorni della settimana, quando vi sentirete particolarmente ispirati. Molti progetti prenderanno forma e incontrerete favori e lodi. Toro. Amore. La situazione fisica che vi travolgerà letteralmente. I pianeti regalano alle coppie emozioni fortissime. Consoliderete, progetterete, vi aiuterete vicendevolmente. Vi soffermerete in particolare sulle questioni di natura pratica riguardanti la casa e di lavoro con una intesa da fare invidia. Insomma, dove non arriverà luno ci penserà laltro e il tutto sarà condito da complicità ed armonia. Lavoro. Capace di prendere decisioni di una certa portata. La vita sociale si fa dinamica. Incontrerete personalità molto influenti che apprezzeranno il vostro operato non poco. Nel vostro cielo, si intravedono successi interessanti. Chi è in cerca di lavoro, non deve stancarsi di presentare candidature o provare test ed esami. Sono in arrivo notizie molto gradite. Gemelli. Si apre una fase appagante, molto bollente. Marte vi rende irresistibili e vi farà da guida durante i rituali di corteggiamento. Continuate così. Lavoro. 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 Cancro. Cancro. Giove e Nettuno sono i vostri preziosi alleati. Aiutano chi ha vissuto momenti di incertezza a ritrovare la strada maestra. Finalmente, come annuncia il nuovo oroscopo, riuscirete a parlare con la persona amata in tutta tranquillità, senza paure infondate e senza interferenze esterne. I cuori solitari in cerca di avventure incontreranno il favore delle stelle. Otterranno risposte che li aiuteranno a farsi avanti con maggiore grinta ed audacia. Venere incoraggia a ripristinare un rapporto interrotto. Fioccheranno inviti e nuovi incontri, molti dei quali scaturiranno dallespansione stessa dei vostri obiettivi professionali. Lavoro. Possibilità di firmare un contratto oppure di ottenere rinnovi e rimborsi. Controllate la posta elettronica se avete, di recente, inviato una importante candidatura. In ufficio, vi capiterà di non apprezzare la voglia di primeggiare a tutti i costi di un collega. Tenete duro. Limpegno sarà premiato da trasformazioni nei compiti e nei ruoli che spianeranno la strada ai nuovi equilibri, più confacenti alle vostre esigenze. Leone. 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 . Virgine. Amore. Contradistingueranno le coppie datate. Ritroverete vecchi amici, casualmente o sui social e. Saranno faville. Polemiche, richieste e continue dimostrazioni, invece, turberanno ancor di più l'equilibrio dei legami sull'orlo della rottura. Battaglierete ancora e farete veramente fatica a giungere ad un punto di incontro. Per una persona che vi piace, vi spaventa ammettere ciò che provate? È il caso di farlo. Ed anche subito. Lavoro. Ad ogni incertezza. Saturno garantisce stabilità e solidità. Mercurio, invece, aiuta a gestire nel modo giusto gli imprevisti. Ma ancora. Giove consiglia di espandersi e farsi ulteriormente conoscere in giro. Che ne dite di prendere seriamente in considerazione quello spostamento oppure quel viaggio all'estero fino ad ora presente solo nei vostri pensieri? Bilancia. Amore. Amore, la settimana parte con qualche difficoltà di comunicazione con la persona amata che, fortunatamente, scompariranno nel nulla attraverso la compressione reciproca. Purtroppo, però, vi toccherà ingoiare qualche boccone amaro. Il panorama astrale disegna scenari unici, crea situazioni molto stimolanti. Le coppie giovani vivranno incomprensioni affettive che svaniranno nel nulla se si prenderà l'iniziativa in camera dal letto. Ciò dimostra che, nonostante qualche tensione, gli slanci affettivi non vi mancheranno e per questo, sarete molto apprezzati dalla dolce metà. Per i single, è tempo di filtrare le nuove conoscenze e di riflettere. Venere, tuttavia, vi rende molto istintivi, ripristinando spontaneamente il dialogo dopo un brutto distacco. Lavoro. Le stelle consigliano di chiarire posizioni lavorative o ruoli incerti. Se siete in cerca di nuovi collaboratori, avvicinatevi a chi condivide le vostre stesse passioni creative. Marte, specie nel weekend, rende concentrati ed energici. Catturerete approvazioni e lodi. Scorpione. Le coppie per andare avanti e costruire il proprio futuro insieme. In arrivo cambiamenti radicali, improvvisi, che consentiranno di prendere decisioni importanti. I pianeti, inoltre, vi chiedono di continuare a coltivare, così come già state facendo, i rapporti quotidiani con maggiore empatia. Sarete molto popolari e non faticherete a stringere nuove amicizie. Possibili ritorni dal passato. Lavoro. 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 Mettere troppe cose contemporaneamente spesso produce scarsi risultati. Mirate ad uno o più obiettivi e vedrete che raggiungerete mete impensabili. Sagittario. Amore. 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 Capricorno. Amore. 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 Pesci. Non cederanno alla noia grazie a stimoli di ogni tipo. Venere vi rende abili amanti e perfetti seduttori, Marte, invece, dispensa fiducia e tanta energia. Se un ex ritorna, seguite il vostro intuito. Se torna a ripetere gli stessi errori. Significa che non è affatto cambiato come vuole ostentare. Proseguite senza tentennamenti in una nuova conoscenza. In arrivo dichiarazioni o proposte inattese. Se ci sono questioni risolte con partner o familiari, la settimana si profila ideale per sistemare definitivamente le cose o almeno per cominciare a farlo. Non indugiate ancora. Gli insuccessi senza piangersi addosso. Saturno e Plutone vi faranno toccare i traguardi tanto ambiti. Inviti inattesi, telefonate inaspettate saranno ben accetti per ampliare i vostri orizzonti professionali. Una collaborazione andrà preventivamente studiata alla luce dei nuovi obiettivi prefissati. Le idee in merito ad un investimento si fanno più chiare. Ottimisti più del solito, avrete voglia di considerare anche strade mai battute prima d'ora. Tutto questo entusiasmo, però, potrebbe portarvi a commettere sbagli nel valutare le persone che gravitano attorno a voi sul posto di lavoro. Gestite con distacco un collaboratore che continua a mostrarsi subdolo ed ambiguo. . .